cari ischitani qui mi trovo a rapallo guardate imparate apprendete come si fa turismo vedete polizia guardate guardate che meraviglia guardate i ristoranti voi vi lamentate sono zeppi rifugitano di persone guardate qui c'è tutto il mondo e parlate di ischia guardate date che meraviglia tutto sul lungomare il virus e che cos'è il virus mascherina non c'è obbligo niente guardate perfino una cameriera robot guardatela ve la faccio vedere un attimo in modo che apprendete come si fa turismo ecco un po' scusi mi interessa questa bella cameriera stai bimba come stai grazie scusa signore non puoi entrare senza mascherina ma si 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 guardate 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 lungomare ho parlato di ischia guardate affari d'oro il ristorante e ieri quello che ho fatto una vecchia non bello no stai observando è inutile che vado più avanti come mangiano e questo fino all'in fondo per oltre diciamo 600 metri quasi un chilometro lavorano tutti questo è il turismo ci vediamo ad Ischia ciao